C'è il tranche, quella sezione lì, aspetta via 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 la mano, guardala, ora Roberto voleva mangiare, adesso mangiare, vai, Roberto panettiere, è venuto a fare il corso di bucati, spettacolo, grandissima, è bellissima, quella sezione lì con la mozzarella che è crollata nei buchi, è spettacolare, grande. Allora, margherita bucata, qua altre sezioni, poi vi facciamo vedere dopo la spontini fatta bene. Ciao, ciao. A Roberto mi ha gentilmente portato una sua pagnotta con lievito madre. Forza, lui mi gentilmente mi dona 5 litri di focaccia. Guardate che bella pagnottina. Allora, tu ho un'ick su Instagram, così ti seguono. Lievito madre e pane. Lievito madre e pane, andate a seguire Roberto che è un bravissimo ragazzo e sa anche il fatto suo. Ciao belli, ciao Roberto, grande. Ciao, grazie a te.